Tisane Waller presenta... Madre! Oggi è un giorno speciale! Ah sì? Una sola parola! M-D-N-A! Jean-Claude, se questa è un'altra delle tue fregature... Ma no madre! Oggi vi è il party di Madonna! L'ho detto su Madonna Tribe! Madonna Tribe? Sti cazzi! Allora bisogna andarci! Ma certo! Hell! You! V! Madonna!